ai ragazzi nel laboratorio di scienze naturali? Beh, in particolare l'assaggio delle acque, direi. Abbiamo due attività, vi parlo di questa ed è interessante vedere innanzitutto quanto l'acqua del nostro territorio sia molto buona e vi invito ad assaggiarla e all'interno di tutta la nostra provincia ha dei gusti un po' diversi e quindi voi potrete decidere quale vi piace di più e vi piace di meno ma si tratta solo di un gusto personale perché dappertutto è decisamente ottima. L'invito del museo è quello proprio di avere acqua del rubinetto perché è la migliore fra tutte le acque insomma che abbiamo anche in commercio e vi invito proprio a sperimentarlo dal vivo. Ringrazio la collega Stefania Tarter che ha curato questo allestimento insieme a tutti gli operatori del museo da vicino vi porto i saluti del nostro direttore che oggi è impegnato a Milano e non ha potuto essere qua e ringrazio l'entusiasmo di Diego e di Vittà Trentina nel condurre sempre con tanta bellezza questo meraviglioso parco dei mestieri. Grazie.